Nel video di oggi esaminiamo il mondo dei servizi REST quindi cerchiamo di capire prima approccio teorico che cosa sono se ne parla tanto ma magari non sappiamo esattamente di cosa si tratti vediamo che non sono una cosa poi così complicata anche se sono molto diffusi, molto comodi, molto utilizzati vediamo come realizzare un semplicissimo server REST usando Python e Flask e poi creeremo una serie di client per Arduino che possono accedere ai servizi offerti dal server quindi vedremo la GET, POST, PUT e DELETE se non sei ancora iscritto al mio canale ti chiedo di farlo non ti costa nulla mi dai una mano a crescere e mi supporti iniziamo subito parliamo di RESTful API o in breve REST API che cosa sono? sono dei servizi web disponibili di solito distribuiti da un web server in HTTP che ci permettono di accedere ai servizi o comunque rendere attiva un'applicazione RESTful o meglio REST significa Representational State Transfer abbiamo anche la parola API API sta per Application Programming Interface quindi è un'interfaccia verso un server che contiene delle informazioni a semplice accesso perché serve semplicemente un client HTTP adesso entriamo un attimo nel dettaglio una API per essere veramente REST deve essere online quindi deve essere in rete accessibile via rete o web quindi abbiamo rete deve utilizzare l'HTTP quindi il linguaggio dei server web e inoltre non mantiene lo stato quindi no stato cosa significa? che il server a cui mi rivolgo non terrà memoria non terrà uno stato delle chiamate che faccio quindi le chiamate sono tutte svincolate avremo quindi da qualche parte un server questo server potrebbe avere oppure no un database con i dati su questo server andiamo a installare questi servizi REST questi servizi REST possono essere utilizzati tramite il protocollo HTTP che è quello delle richieste più classiche quelle che utilizziamo con i browser per navigare su internet solitamente i nostri server utilizzano il protocollo HTTP quando lo scriviamo HTTP www.google.it e diamo invio come vedete nell'indirizzo c'è la parola HTTP o HTPS se è sicuro quando diamo invio viene fatta una richiesta al server quindi una GET stiamo dicendo al server dammi una delle tue risorse in questo caso la prima pagina del sito il protocollo HTTP prevede tutta una serie di comandi o di richieste quindi la GET che è quella che abbiamo visto che utilizziamo tramite browser poi abbiamo la POST che è simile alla GET solo che avviene all'interno del browser per esempio in un form quando mandiamo una serie di dati e informazioni poi abbiamo anche delle PUT una DELETE e anche una PATCH metto tra parentesi che sono un pochino meno usate quelle principali sono queste con queste quattro possiamo accedere gestire e manipolare una serie di informazioni mantenute online sul server quindi solitamente noi avremo il nostro adesso disegno un telefono giusto per dare un'idea del client quindi potremmo avere un telefono con su installata un'app oppure il nostro Arduino con un firmware che gira collegato in rete questi comunicano tramite il server per ottenere le informazioni necessarie per il loro funzionamento e possono farlo facendo delle chiamate utilizzando quindi l'http due punti barra barra nome del server e poi il percorso del servizio che noi vogliamo utilizzare della risorsa che vogliamo interrogare e eventuali parametri passati a seconda di quello che vogliamo fare proviamo a capirci meglio immaginiamo che sul mio server ho un database con un elenco di città una specie di archivio quando voglio andare a interrogarlo ho intanto l'indirizzo della risorsa per esempio se lo installeremo locale quindi sarà per esempio localhost o potrebbe essere anche un indirizzo IP e poi ho il percorso della risorsa immaginiamo siano per esempio country quindi lo chiamo così questa è la risorsa country rappresenta i paesi del mondo posso utilizzando per esempio una get chiamare questo indirizzo questa risorsa e farmi dare una country quindi un paese preciso fornendo l'id del paese qua per esempio mettiamo 123 e il server mi risponderà in http mandandomi una risposta che contiene i dati relativi al country 123 vorrà dire che da qualche parte sul database avremo una tabella tabella con dentro i famosi paesi di cui stiamo parlando ci sarà una colonna per esempio la chiave di questa tabella id con dentro dei numeri ci sarà il paese 123 dove avremo il nome dello stato capitale e altre informazioni che restituiamo facendo questa chiamata tipicamente queste chiamate rispondono in json anche per l'invio dei dati adesso vediamo quindi faccio una get di questa cosa qui la posso fare anche con un browser semplice otterremo come risposta un json che abbiamo già incontrato quindi trovo delle graffe posso avere per esempio un campo id due punti troveremo 123 virgola che ne so io country country due punti e qui abbiamo non so Italy e così via tutte le informazioni che mi servono restituite in json quindi questa è la get la get mi restituisce un dato ottiene un dato dando l'indirizzo poi abbiamo la post la post serve per creare un dato nuovo quindi avrò sempre la mia risorsa http due punti barra barra l'indirizzo la risorsa è per esempio country facendo questa chiamata usando il metodo post qui è un po' più difficile da fare poi vi faccio vedere come possiamo farlo facilmente e passando un corpo un body con all'interno un contenuto questo contenuto sarà ovviamente in json in un formato che sarà descritto da qualche parte sul server immaginiamo di usare lo stesso della risposta quindi avrò id e gli passiamo non so 10 poi avrò un country due punti e gli mettiamo france e così via mandandogli questo corpo assieme alla richiesta in post andrò a aggiungere vado a creare un nuovo elemento per esempio nella tabella che viene gestita dal server abbiamo poi il metodo delete delete funziona un po' come il get quindi avremo l'indirizzo e in fondo al country della nostra risorsa daremo per esempio l'id il numero dell'elemento che voglio cancellare abbiamo anche la put la put fa la sostituzione quindi va a sostituire un elemento esistente funziona un pochino come la post i servizi rest ci permettono di accedere a una struttura ad act una struttura ad albero sia per i servizi che per i dati che possiamo ottenere per esempio potrei fare una chiamata al nostro server posso selezionare una country gli posso dare un numero quindi un id se il server è ben organizzato potrei magari entrare all'interno di questa call aggiungendo altre parametri per esempio che ne so city e qua gli do un altro numero per la city per esempio city23 in questo modo creo proprio un albero di servizi qui andiamo a complicarci un pochino le cose comunque vediamo adesso come realizzare un semplicissimo server rest utilizzeremo python uno dei modi abbastanza semplici per realizzare un'applicazione in python è quella di usare tonny tonny è un editor gratuito che potete scaricare direttamente da internet il sito di tonny è www.tonny.org quindi potete scaricarlo è un ambiente di sviluppo leggero e veloce per fare rapidi esperimenti quindi una volta scaricato prima di tutto creiamo un ambiente virtuale perché abbiamo bisogno di installare alcune librerie quindi facciamo nel menu run configure interprete qui abbiamo in questa finestra in basso new virtual environment creiamo il virtual environment dove creare il nostro codice crea una cartella faccio rest server selezioniamo la cartella viene creato il virtual environment c'è una installazione minimale di python in questo modo tutto quello che installo viene installato solo all'interno della nostra cartella senza andare a disturbare tutti gli altri progetti che ho in python diamo ok qui sotto vedete che è stato scelto effettivamente il percorso la cartella che abbiamo scelto noi qui adesso faccio un new lo salviamo vuoto questo file lo salvo con il nome intanto lo metto nella cartella giusta e lo chiamiamo main.p aggiungiamo le librerie necessarie per sviluppare il nostro server potremmo farlo da zero però è meglio utilizzare anche in questo caso una libreria sempre di python la libreria che utilizzeremo si chiama flask flask è un progetto che permette di creare delle web application in python e quindi anche per esempio dei server che esportano servizi web non serve scaricarla useremo il gestore pacchetti che troviamo dentro toni quindi dentro tool manage package qui cerchiamo flask diamo invio eccolo qui clicchiamo sopra installiamo flask facciamo close a questo punto il nostro ambiente di sviluppo è pronto aggiungiamo le librerie quindi from flask import importiamo la classe principale che è flask poi flask ci offre anche request e jsonify creiamo l'applicazione l'applicazione flask si crea istanziando la classe flask qua gli mettiamo underscore name quindi prende il nome dello script per farla eseguire utilizziamo il formato standard che si usa per python per gli script per renderla eseguibile quindi facciamo così if underscore underscore name underscore underscore è uguale uguale vado a vedere se questo è uguale a main underscore underscore vuol dire che stiamo eseguendo lo script è una specie di entry point e di script python quindi se stiamo eseguendo lo script vado a lanciare con run il nostro server flask e gli diciamo anche alcune proprietà uno che indirizzi ascoltare quindi facciamo host uguale e qui mettiamo 4 0 in modo che sia aperto a tutte le richieste esterne e poi gli diamo la porta facciamo port uguale diamo una porta a piacere per esempio 5 1 5 0 quindi questo crea il nostro server potremmo già anche lanciarlo aspetto un attimo poi flask ci permette di definire in modo elegante i servizi e andare a legarli alle get, post e delete ai metodi che abbiamo visto prima con delle annotazioni ci servirà per gestire il tutto una lista la chiamo lista country country s non ho un database quindi facciamo tutto in memoria giusto per simulare la cosa in un server vero ovviamente avremo un database magari è un'applicazione che svilupperò in una delle prossime settimane così abbiamo un server completo qui dentro vado a mettere i dati li vado a rappresentare in questo modo quindi come se fosse json quindi mettiamo un id poi faccio due punti qua gli mettiamo uno virgola metto name del country e così via vado a completare tutte le informazioni vado ad aggiungere tante righe quanti sono i record che voglio mettere dentro immaginiamo di metterne dentro 3 quindi facciamo 1,2,3 per fare una cosa sensata io avevo preparato già una serie di record con un po' di informazioni le vado ad incollare qua così abbiamo qualche dato in più qualche campo in più ok questo qui è la nostra lista la nostra tabella in memoria simulata ora creiamo i punti d'accesso per esempio voglio creare delle get allora faccio chiocciola app.get e poi qui diciamo qual è l'url a cui voglio rispondere per esempio faccio country ok voglio fare il get del singolo elemento quindi country devo dire che qui ci sarà anche un parametro il parametro di tipo intero e gli do anche il nome non so country underscore id questa è la notazione sotto qui metto la funzione che verrà chiamata quando qualcuno cerca questo indirizzo qua quindi farò def metto una funzione a piacere get country per esempio potete chiamarla come volete non c'è c'è completa libertà get country ha un parametro questo parametro è ovviamente country id che troviamo qua quindi copio e lo incollo qua mettiamo due punti e ora il corpo della richiesta vogliamo vedere se funziona posso fare una roba semplicissima faccio semplicemente un return dopo mettiamo il codice per farlo funzionare gli mettiamo il json di risposta mettiamo che ne so msg due punti gli dico not found not found e dobbiamo dargli anche un codice mettiamo il codice 201 vuol dire che abbiamo elaborato la risposta salvo ed eseguo diamo consenti vedete qua sotto il server gira mi da anche gli indirizzi a cui ne ascolto come facciamo a provarlo basterebbe un semplicissimo browser però visto che dobbiamo fare cose più complicate vi consiglio di andare sul sito di postman.com nella sezione product sotto download scaricare questa applicazione che serve per lavorare in questi contesti io l'ho già scaricata la installiamo lanciamo postman è un client è come se fosse un browser evoluto quindi può fare get potete mettere post con il json vedete quello che succede e anche altri metodi che di solito i browser non hanno qua potete registrarvi altrimenti se cliccate qui possiamo continuare con il client lite a noi va benissimo lite per quello che dobbiamo fare perfetto qui abbiamo l'interfaccia vedete qua sotto come sono stati esposti copiamo questo qua ad esempio e andiamo a incollarlo qui quindi stiamo facendo una get a questo indirizzo attenzione devo mettere country ok country e country come abbiamo detto anche nella nostra spiegazione si aspetta un numero un id quindi mettiamo 1 basta fare send faccio send la richiesta è andata a buon fine vedete qua risposta 201 e questo qui è il messaggio che abbiamo preparato noi e restituito in json se vado qua vedete che è arrivata anche una richiesta e abbiamo risposto proviamo a completare un po' il codice per renderlo più interessante allora intanto potrei fare aggiungiamo un altro servizio che è il get countries se lo faccio al plurale invece che country id se mettiamo countries faccio un get di questo tipo mi creo qua un altro metodo qui sotto lo incollo get countries non ha parametri abbiamo i due punti quindi allora qua posso ritornare direttamente la struttura dati country faccio return uso jsonify quindi basta passare i country qui dentro salviamo lo vogliamo provare torniamo subito faccio stop rieseguo il nostro server torniamo su postman qui abbiamo get correggo mettiamo countries andiamo invio ed ecco qua sotto la risposta quindi siamo sempre in get questo è il nostro servizio rest mi ritorna un elenco una lista andiamo avanti aggiungendo altre funzioni intanto la get con l'id qui cosa facciamo abbiamo in mano l'id è questo country id devo scorrere la lista in modo più stupido che mi viene in mente quello di fare un for l in countries due punti scorro tutti gli elementi guardo l'elemento sarà questo qua di volta in volta mi trovo in mano questo affare qua che è un dictionary quindi if l aperta e chiuse quadri qui abbiamo id quindi se l'id dell'elemento che ho in mano è uguale uguale al country id cioè il parametro che ci hanno passato o quindi l'oggetto che stiamo cercando cosa faccio ritorno posso ritornare l'elemento che ci interessa quindi posso fare così metto le graffe potrei ritornarlo così pari pari com'è o altrimenti faccio un return posso mettere un country due punti gli passo l'elemento faccio virgola 201 altrimenti si può usare jsonify anche qua restituendo direttamente l quindi qui facciamo una specie di wrap dell'elemento all'interno di country quindi questo è uno se lo trovo bene altrimenti se faccio tutto il for e non trovo niente ritorno not found aggiungiamo un altro metodo semplice che è il delete posso copiare tutto questo gruppo perché più o meno fa le stesse cose lo mettiamo qui sarà app invece che get mettiamo delete country si prende sempre il suo id cambiamo il metodo qua non sarà un get ma sarà delete country cosa facciamo per cancellarlo devo scorrere gli elementi quindi se l'id dell'elemento che ho in mano è uguale all'id che mi hanno passato come parametro allora devo cancellarlo rimuoverlo in python è facile basta fare country punto remove l elemento corrente e a questo punto restituiamo qualcosa qui non posso restituire l'elemento che ho cancellato oppure potrei anche restituirlo altrimenti potrei restituire che ne so il numero di elementi che abbiamo all'interno della lista oppure facciamo tutte e due quindi restituiamo country e poi qua gli metto len due punti e gli dico restituisco il len di country ho visto che potrebbe arrabbiarsi per essere sicuro lo trasformo in una stringa quindi questo numero viene trasformato in stringa e restituito sempre col 201 altrimenti gli diciamo che not found come risultato se andiamo a implementare un metodo un pochino più complicato che è il post copiamo sempre parte di quello che abbiamo già fatto poi lo modificheremo allora il post mi metto qui useremo la firma app.post qui non abbiamo parametri quindi arriva direttamente così non c'è neppure la barra quindi faccio il post e il metodo lo chiamiamo post country non ha un parametro qui quindi semplicemente post country come funziona intanto qui riceveremo una un pacchetto dati dove sono questi dati nella richiesta quindi faremo request punto get underscore json aperta e chiusa questo mi dà l'informazione per pararci un po' posso fare una verifica faccio if request punto is json vado a verificare se mi mandano i dati in json se no non considero la richiesta se i dati sono in json allora estraggo faccio data uguale request get json dentro questa data data è già la struttura ok quindi posso andare ad aggiungere le mie informazioni a country countries punto faccio append direttamente di data allora qua i campi che mi inviano sono tutti bene o male numerici tranne area id se voglio essere sicuri che questi siano numerici posso andare a forzarlo qua per esempio posso fare data area uguale vado a riscrivere data area dovrebbe essere un numero prendo data area lo trasformo lo forzo in un int con int aperta e chiusa potrei fare lo stesso anche per l'id anche se potrebbe passare pulito facciamo così anche per l'id così siamo sicuri tutti i due saranno numerici poi eventualmente se c'è qualche errore lo correggeremo quindi vado ad aggiungere country appendata li aggiungo e a questo punto posso dargli un ok copiamolo da qua potrei restituire se l'operazione è stata eseguita facciamo country restituisco data e restituisco anche la lunghezza del country che dovrebbe essere incrementata di 1 altrimenti se qua se request non è json e non faccio questo insert arrivo qui vuol dire che c'è stato qualche problema stampiamo un errore e dico non è json restituiamo il codice errore codice errore 415 si possono ricavare basta cercare su internet le risposte http trovate quella che fa al caso vostro quindi questo è il post posso creare anche una put la put dovrebbe sostituire l'elemento è abbastanza simile quindi abbiamo put sempre country il metodo lo chiamiamo put country verifichiamo che la richiesta sia json la salviamo dentro data sistemiamo eventualmente il tipo dei dati che otteniamo con questi int che abbiamo fatto ora devo andare a cercare la posizione corretta quindi vado a scorrere gli elementi dentro country per trovare quello che mi chiedono faccio così for country in countries scorro gli elementi e qua se if country id country è l'elemento che ho in mano durante l'iterazione vado a tirar fuori il suo id se questo id è uguale uguale a il data id cioè l'id del gruppo di dati che mi hanno passato e sono quelli che voglio andare a modificare ad aggiornare se è così allora cosa faccio faccio countries devo beccare l'elemento giusto come faccio a beccarlo devo tenere conto quindi dovremmo in qualche modo avere un indice lo creo qua facciamo i uguale 0 e poi ad ogni passo vado a incrementare questo indice i che mettiamo qua poi qui quando l'ho sostituito se l'ho sostituito faccio break interrompo tutto e appena fuori mi devo ricordare qua di incrementare i più uguale 1 il nostro indice che serve per scorrere la lista questo qua l'append serviva per la post lo togliamo via se tutto è andato bene restituiamo sempre country data e la lunghezza dell'array che in teoria non è cambiata bene questo è il nostro server con i quattro servizi implementati lo salviamo faccio stop proviamo a rilanciare e speriamo di non aver fatto errori ora recupero postman e facciamo un po' di prove allora abbiamo mi copio parte di questo json che ci servirà allora country invio mi da l'elenco vedete sono tre abbiamo tre possibili risultati voglio andare ad aggiungerne uno per raggiungere un elemento devo fare una post quindi faccio post qui abbiamo country poi devo aggiungere il corpo il body quindi vado qua dentro clicco su body su raw qui scegliamo il tipo diciamo che json vado a incollare il json che ho rubato qui sotto possiamo renderlo anche un pochino più compatto adesso qua non sono in ordine fa niente non ci interessa inventiamo un id facciamo non so 5 mettiamo capitale diciamo roma e il paese è italia italy proviamo a fare send ok vedete che è andato tutto bene la lunghezza di 4 mi ritorna il dato che ho mandato se voglio rivederlo basta prendere country richiamo country vedete che adesso abbiamo quattro elementi voglio vedere un singolo ora il nostro get è collegato veramente alla nostra tabella finta quindi se metto 1 mettiamo questo se metto 4 4 not found non mi ricordo più qual era l'ultimo ok 5 vedete italia me lo restituisce a questo punto possiamo provare a modificare con put put è simile al post ok andiamo qua sul body vado a copiare il json creiamo una nuova chiamata put questo è l'indirizzo modifichiamo qua invece che teniamo sempre 5 questa volta facciamo invece che roma lo metto in inglese facciamo rom ho sbagliato a scriverlo e cambiamo l'area mettiamo l'area 9999 così capiamo se è andato bene faccio send mi restituisce il risultato vedete qua voglio vedere tutta la lista chiamo il get country faccio send ed ecco qua andiamo rom modificato ok adesso decido di cancellarlo è l'id5 la cancellazione avviene come la get quindi è tipo questa faccio delete country abbiamo detto id5 faccio send e vedete che è stata cancellata mi restituisce il dati verifico di nuovo con get country ed ecco qui gli elementi come possiamo realizzare dei client per i servizi rest con arduino ho aperto arduino utilizzeremo un arduino wifi r4 per i test dentro gli esempi avendo selezionato la scheda 1 r4 troviamo wifi s3 qui abbiamo il web client possiamo ispirarci a questo codice per scrivere la nostra classe quindi adesso come vedete ha la doppia struttura c'è arduino secret qui dentro andiamo a mettere il nome della rete wifi condivisa sia dal server che dall' arduino deve essere collegata allo stesso wifi e la password di rete ora lo mettiamo un attimo da parte e scriviamo qua il codice corretto qui ho già messo le mie password prima di iniziare verifichiamo di aver installato arduino json arduino json nella libreria fondamentale che ci permette di recuperare i dati quindi fare la serializzazione e deserializzazione già installata ultima versione verificate anche voi allora iniziamo la scrittura del client non è complicatissima nella parte iniziale includiamo le librerie per il wifi e arduino json non che quindi qua prima del setup metto arduino json e wifi s3.h che specifica per il modulo esp32 che abbiamo a bordo del nostro arduino r4 poi abbiamo l'arduino secret che ci permette di recuperare utente password per la nostra rete allora definiamo questo lo faccio copiandoli dallo sketch originale di arduino copiamo quindi i campi per password e nome rete verranno compilati in automatico recuperando i dati da arduino secret sempre dallo sketch abbiamo una serie di informazioni che sono l'indirizzo del server la porta e poi creiamo il wifi client allora intanto dove andiamo qua una variabile di stato ci può far comodo char server è il server al cui ci colleghiamo questo indirizzo lo ricaviamo da toni dove gira il nostro server e come vedete stiamo uscendo su 192 168 1.17 porta 51.50 quindi abbiamo qui la porta creo il wifi client wifi client lo chiamo client punto e virgola nel setup configuriamo la parte per la seriale quindi serial begin e poi attendo fino a che la seriale non è pronta qua possiamo eventualmente mettere un delay di 1 l'attesa della connessione si fa verificando lo stato di rete con una while recupero sempre il codice dall'esempio abbiamo un while vado a verificare stato finchè stato non è connesso continuo a girare qui dentro e stampo un messaggio io solitamente invece che tutti questi messaggi metto semplicemente un puntino qui proviamo a collegarci con wifi begin se va bene il status diventa connesso e usciamo qua si può provare eventualmente a mettere un intervallo più basso magari mettiamo 3000 ok proviamo a collegarci al server la connessione si fa con client connect client punto connect diamo server e port che abbiamo definito prima questo lo racchiudiamo in un if quindi se la connessione avviene allora possiamo elaborare posso scrivere un messaggio in modo che diciamo che hai connessi qui sulla seriale ci mettiamo qui stampo connesso e qua abbiamo finalmente la get quindi inviamo la get usando client client punto print o println println questo è il cuore della nostra richiesta quindi mettiamo proprio get il servizio si chiama country mettiamo un id 1 e poi diciamo http barra 1.1 per concludere bisogna aggiungere l'host quindi sempre con client print allora mettiamo client print punto e virgola qui dobbiamo scrivere host con l'h maiuscolo due punti un'altra client print questa volta sarà println e qui mettiamo server uso la variabile poi client print e chiudiamo la connessione scrivendo connection close così proprio come si dice questo è un println perché dobbiamo metterla a capo in fondo quindi connection close e poi in fondo alla fine mettiamo una riga vuota con println senza dentro niente questo crea la connessione poi adesso passiamo nel loop nel loop eseguirò una sola cosa e poi esco quindi vado a leggere la risposta del server con read response e poi termino la connessione anche questo codice lo vado a copiare dall'esempio che troviamo lo fa in questo modo va a verificare se il client ha chiuso la connessione allora gli da lo stop aspetta aspetta qualche secondo poi qua gli ho aggiunto la disconnessione del wifi per proprio chiudere la connessione e quindi disconnetteci in modo pulito dal router quindi wifi disconnette poi si blocca qua per sempre quindi possiamo lasciarlo così read response va ancora creata è una funzione che ci siamo inventati noi facciamo void read response aperta e chiusa qui dobbiamo ricevere la risposta del server e interpretarla come json allora dobbiamo verificare lo stato che viene restituito il server non mi risponde solo col json da tutta una serie di informazioni che dobbiamo in parte bypassare vado a leggere intanto uno stato lo stato lo mettiamo in un'area di caratteri status mettiamo 32 caratteri dovrebbero essere sufficienti e poi utilizziamo client punto read byte until dico leggi byte fino a che non arriviamo al carattere di fine linea quindi fin che non incontri il nostro slash r gli diamo la variabile status anzi la stringa gli passiamo la stringa status che sarà valorizzata e dobbiamo dirgli anche quant'è sizeof status quindi quanti byte gli diamo quindi sizeof status possiamo usare questo sistema quindi legge questo metodo e alla fine dovrò trovare dentro status la stringa status http 1.0 o qualcosa del genere quindi lo verifichiamo qua questa istruzione va a leggere la risposta che sarà una risposta in http quindi http 1.0 200 key oppure 201 created eccetera eccetera devo verificare se trovo dentro questa scritta oppure no allora per fare il confronto useremo strcmp copio qua il codice strcmp mi porto visto che status funziona come un puntatore avanti di 9 posizioni quindi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sono qua quindi ho sempre 9 caratteri poi il codice e vado a vedere i due casi quindi quindi questa è una condizione che cerco e l'altra è 200 ok allora se non trovo queste cose qua mi fermo quindi faccio così if se questa roba qua è strcmp diverso da zero qui occhio alle parentesi e seconda condizione da verificare anzi da evitare questa qua è diversa da zero allora vuol dire che non ho trovato lo stato 200 201 e ho un errore quindi facciamo client punto stop e terminiamo faccio un return esco e poi verrà chiusa la connessione qui possiamo stampare un errore quindi facciamo un serial print lo copio incollo mettiamo qui mettiamo errore oppure ok errore risposta srv ok questo è uno poi l'altra parte invece dobbiamo far scorrere le intestazioni il header creo una stringa che chiamo and head and head è uguale a questo è un array di caratteri quindi sarà definito così lo creo mettendo dentro quello che mi aspetto in fondo al header due righe vuote slash n slash r slash r slash n in questo modo vado a cercare quindi questa roba qua posso usare direttamente il client se faccio if client punto find e gli mettiamo questa roba qua and head questa stringa lo metto qui e quindi se il nostro client non trova la fine dell'header allora abbiamo qualche problema e anche qua stesso sistema quindi stop return e mettiamo errore facciamo errore header così lo sappiamo ok quindi questa è la parte un pochino più noiosa ora andiamo a sodo quindi creiamo un json document json document lo chiamo doc e ora facciamo fare il parse la deserializzazione deserialize json gli passiamo doc il documento che vogliamo valorizzare e direttamente il client se lo gestisce lui producendo il risultato troviamo subito quello che ci serve allora posso ricavare per esempio l'id int id uguale ho doc il serve mi restituisce possiamo andare a vedere se non vi ricordate quando faccio un get country due punti con l'elemento quindi è annidato allora per ottenere l'id dovrò fare country e poi qua gli metto anche l'id quindi prima estraggo country da dentro country tiro fuori lì e poi lo possiamo andare a stampare ho gli altri campi per esempio il nome la capitale e l'area li ho già preparati ve li incollo qua usiamo lo stesso sistema quindi sono delle stringhe delle caratteri li estraggo con doc country name doc country capital doc country area e poi li stampiamo a video con delle serial print che anche in questo caso ho già preparato per snellire un po' la spiegazione ecco qua salvo compilo correggiamo qualche errore ho lasciato in giro qualche carattere carichiamolo sul nostro arduino apriamo il serial monitor faccio reset della scheda come vedete è già partito e ha già recuperato l'oggetto json salviamo lo sketch con un nuovo nome faccio save as questa volta lo salviamo come rest client delete faccio la delete perché è molto simile le modifiche come vedete sono minime allora teniamo tutto uguale andiamo solo a inserire il codice dopo aver effettuato la connessione quindi qua ci siamo collegati al server e mi porto via questo codice qua facciamo la delete e chiamo send delete ora andremo a creare questa funzione poi nel loop lasciamo i comandi che fanno la disconnessione nel caso il client abbia terminato realizziamo la send delete quindi prendo la send response che abbiamo creato l'altra volta e la cambio la chiamiamo la chiamiamo send delete mi sono copiato le client.print che ho utilizzato prima le modifichiamo quindi faremo client invece che ho get daremo una delete chiamiamo sempre country è servizio gli diamo l'id per esempio cancello il 2 il resto è uguale host connection è tutto come prima introduciamo un piccolo delay qua sono 200 millisecondi tra un'operazione e l'altra e poi in teoria andiamo a leggere la risposta in questo caso non mi interessa molto elaborare la risposta quindi potrei semplicemente fare una lettura di quello che riceviamo quindi questa parte qui la possiamo buttare via e semplicemente stampo quello che mi torna indietro quindi faccio un while mettiamo client punto available se ci sono dati che arrivano dal nostro client in qualche modo li stampo me li faccio dare riga per riga quindi faccio string line uguale client ho il metodo read string until gli diamo il carattere slash r che è il fine della riga e questi qua li stampiamo per vedere cosa otteniamo serial punto print mettiamo line dopo che è fatta la chiamata vedremo il risultato e poi chiude e termina tutto è già tutto collegato compilo carico al termine apriamo il serial monitor eventualmente resetto la scheda ok mi dice 201 created e in teoria abbiamo fatto la chiamata quindi dovremmo vederla qua ok delete country 2 per fare il test dovrei poi andare a collegarmi leggendo l'elenco dei paesi però abbiamo già provato con postman che funziona quindi abbiamo la risposta corretta infatti troviamo qua che mi risponde con il country l'id che ha cancellato e l'end 2 quindi il nostro array da 3 è passato a 2 passiamo ora alla post quindi prendo il mio sketch lo salvo con nome manteniamo tutta la struttura che è ancora valida dobbiamo modificare la post usiamo più o meno la struttura della delete va bene quindi dopo che ci siamo collegati qua invece che fare delete manderemo una post quindi creo un metodo send post il resto lo tengo tutto uguale quindi scendiamo e qui modifico la send delete chiamandola send post qui dovremmo inviare i dati è un pochino più complicato perché devo mandare dei json come vedete non è poi così tanto complicato allora sfrutto il json che ho qua prendo una riga la copio andiamo nel nostro codice di arduino creiamo semplicemente una stringa un array di caratteri quindi const char puntatore faccio post data uguale incollo questa stringa e adesso la sistemo perché come vedete bisogna mettere l'escape alle virgolette quindi mettiamo l'escape su tutte le virgolette magari poi cambiamo anche i dati mettiamo qua capital mettiamo un id facciamo 10 name mettiamo itali capitale facciamo roma area mettiamo un numero 123 123 ok ora la richiesta da mandare potete immaginare quale sia quindi sarà un post post attenzione country devo togliere il barra 2 perché non dobbiamo dargli l'id quindi ho sempre l'host con il server poi vado a capo a questo punto devo aggiungere però prima di fare il close una serie di informazioni devo mandare dei dati quindi copio un print qua faccio ctrl v print ln dobbiamo dire il content type il content type questo è di tipo application barra json quindi qui invece che connection close stamperemo content type due punti application json in modo da avvisare che stiamo mandando dei dati json poi devo dire anche che devo comunicare quanti dati manderò qui potrebbe essere un pochino più complicato ma come vedete basta fare a content trattino len due punti la lunghezza dei dati in teoria ce l'abbiamo allora qui mettiamo un print qua facciamo print ln posso usare strlen apri chiudi e gli passiamo post date in modo che viene calcolato in automatico e gli passa il numero di dati che stiamo per trasmettere a questo punto devo mettere uno a capo quindi qua facciamo client.println quindi una riga vuota e poi posso finalmente mettere i dati quindi faremo print e qui metto i dati quindi post data in formato json perché il server si aspetta questo posso mettere un piccolo delay e a questo punto leggiamo la risposta eventualmente la stampiamo carichiamo e proviamo apriamo serial monitor e ecco che abbiamo inviato la richiesta vediamo su Tony se l'abbiamo ricevuto abbiamo ricevuto il post che è quindi è andato correttamente l'ultimo esempio è la put quindi facciamo save as il codice sarà sempre simile quindi qua metteremo put dopo aver effettuato la connessione chiamiamo il metodo send put scendo nel loop chiudiamo connessione e wifi al termine dell'invio e qua in fondo abbiamo la send put la send put fa una modifica di un dato esistente quindi metteremo per esempio 2 e la riga 2 la modificheremo modificheremo dandogli i valori che vedete qua quindi se prendiamo Tony andremo a riscrivere l'Australia l'invio essendo in json è abbastanza immediato qua mettiamo put l'end point quindi il nome del servizio country host è sempre questo andiamo a capo abbiamo content type application json content land mettiamo la riga vuota post data aspettiamo un po' ed è fatta quindi sarà compito del server l'invio è esattamente uguale alla post cambia solo il fatto che scriviamo put invece che post sarà poi il server a gestire i dati in modo diverso in un caso li aggiunge e li accoda all'elenco e in questo qua invece andrà a sovrascriverli quindi cercando all'interno dell'elenco di dati quello con l'id2 e sovrascrivendolo proviamo a caricarlo e vediamo se funziona la chiamata apriamo il serial monitor riavvio la scheda si collega e in teoria fa l'operazione vediamo su tony abbiamo ricevuto anche la put bene per oggi è tutto un video come avete visto abbastanza denso di contenuti fatene tesoro utilizzatelo per i vostri esempi qui vedremo magari di sviluppare meglio questo server aggiungendo per esempio un database quindi vedendo la parte delle tabelle rendendolo effettivamente utilizzabile quello che abbiamo visto è quello che si chiama un mockup da dei servizi ma i dati sono finti potrebbe essere che per le vostre necessità possa funzionare anche in questo modo un server rest potrebbe anche essere realizzato su arduino ci sono delle apposite librerie che magari prenderemo in esame prossimamente mi riprometto di far vedere anche la soluzione per PHP in modo che se avete l'host in sua ruba volete mettere dei servizi rest che funzionano in questo modo potete farlo in modo da creare applicazioni più eleganti e soprattutto che siano veramente connesse a internet in modo da poter effettivamente dire che i vostri progetti sono progetti per internet degli oggetti IoT che molti cercano yacht cercano le barche e trovano i progetti internet degli oggetti va bene per oggi è tutto vi saluto vi ringrazio ci vediamo presto ciao